E' terminato l'incontro in Abbi, un'altra fumata nera, posizioni inconciliabili. Cosa è successo? Effettivamente è l'ennesima fumata nera, è l'ennesima riunione in cui le posizioni sono inconciliabili. In pratica è il risunto delle puntate precedenti. Abbi continua a dire che il contratto deve esilitare il 28 febbraio, che le diere non può essere stabilizzate oggi perché non hanno possibilità di aumentare i costi del lavoro e quindi può essere stabilizzata soltanto a partire dal 1 marzo del 2015 e chiedono ancora la proroga del calcolo differenziato del TFR dal 1 gennaio al 28 febbraio. Noi naturalmente non abbiamo potuto altro che ribadire la nostra posizione, cioè quella di ribadire che i soldi delle diere, l'attivizzazione delle diere deve venire dal 1 luglio del 2014, come scritto e detto e ripetuto nel contratto nazionale di lavoro che i lavoratori hanno approvato nel 2012 e che si può arrivare, l'unica soluzione che noi potremmo arrivare è quella della scadenza del contratto il 28 febbraio. Naturalmente, essendo tutti consci che in questo modo il contratto che hanno adorato di 3 anni e di 6 mesi diventerebbe un contratto di 4 anni e 2 mesi con tutti i costi che le aziende dovrebbero pagare e noi ci faremo pagare rispetto a questo. Le posizioni quindi sono inconciliabili, sono lontane e quindi si è deciso di sospendere le trattive, di aspettare questa settimana il congresso della WIC, i direttivi delle altre organizzazioni sindacali e di aspettare a riunioni in abi per poter vedere se ci sarà una soluzione il giorno 6 dove è previsto un altro incontro o il giorno 8 dove potrebbe esserci il continuo e la vera inizio dell'attrattiva per il confronto sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro. La WIC cosa intende fare? La WIC intende fare la propria battaglia, noi abbiamo detto che ci rendiamo conto che siamo in un momento di difficoltà del settore economico, del sistema economico italiano, delle banche che hanno obiettivamente dei problemi. C'è il problema dello stress test che aspettiamo con ansia l'esito di questo quindi potrebbero succedere anche cose che oggi speriamo non possono capitare ma che purtroppo potremmo mettere in preventivo, cioè che alcune banche non possono, non riescono a superare questo esame da parte della BCE, però noi diciamo che i lavoratori hanno pienamente ragione nel richiedere e nel farsi pagare i diritti che hanno acquisito col vecchio contratto. Su questo noi non ci muoviamo di una virgola perché i diritti sono diritti e l'ABI ha il dovere di arrivare alla stabilizzazione. Poi si possono trovare soluzioni innovative, nuove, anche di fantasia nel nuovo contratto di lavoro ma questa è una prerogativa che noi abbiamo firmato, abbiamo sottoscritto, abbiamo sottoposto alla parere dei lavoratori e pretendiamo rispetto e pariticità rispetto dall'ABI e dalla delegazione aziendale. A questo punto il congresso della UICA sarà un'assise importantissima dove si tratteranno temi cardine per il proseguo della trattativa. Seguiteci!